Al Via Pistoia un progetto pilota di educazione finanziaria cofinanziato da Comune e Fondazione Caripit rivolto in via prioritaria a nuclei familiari in condizioni di fragilità o vulnerabilità con l'obiettivo di dare strumenti per affrontare nel modo migliore i momenti di difficoltà economica e pianificare con maggiore consapevolezza il futuro. Pistoia si affianca così, terza città in Italia, alle esperienze sviluppate dai comuni di Milano e Bergamo. Nel corso dell'ultimo decennio, a causa della crisi economica, dichiara il vice sindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti, le condizioni materiali anche di una parte dei cittadini pistoiesi sono peggiorate. In questo scenario aiutare le persone a migliorare le proprie competenze finanziarie e a saper individuare le priorità di spesa appare dunque importante. L'educazione finanziaria offerta da Pistoia, il servizio erogato è interamente gratuito prevede sia incontri di sensibilizzazione che di accompagnamento personale, uno strumento di welfare innovativo che aiuta a mettere in ordine le risorse e a progettare il futuro, nonostante le incertezze economiche. Tra le altre cose verranno introdotti i temi principali dell'educazione finanziaria e forniti alcuni consigli e spunti pratici relativi alle strategie di risparmio, alla pianificazione e gestione di un debito, alla protezione del nucleo familiare dai grandi rischi, alle necessità della propria futura vita in pensione e al raggiungimento di obiettivi di vita importanti.